Federico Zampaglione, voce dei Tiro Mancino, ha vissuto un vero e proprio incubo che si è trasformato in ispirazione per il suo nuovo singolo Il Cielo. Durante un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato di un momento buio della sua vita legato a un'operazione chirurgica alla colecisti che ha avuto complicazioni inaspettate. Dopo il risveglio ha iniziato a provare dolori insopportabili che hanno richiesto un'altra operazione urgente. La situazione era così grave che il cantante si è trovato sull'orlo della vita e della morte. Nonostante la paura e il dolore, Zampaglione è riuscito a superare tutto grazie all'amore per la vita, la famiglia e la musica. Il suo nuovo singolo Il Cielo è nato proprio da questa esperienza, trasformando il dolore in speranza. Dopo una lunga convalescenza ha completato il brano insieme a Franco 126, trasmettendo un messaggio di speranza a chiunque stia affrontando momenti difficili. Il cantante ha voluto condividere la sua storia per mostrare che nonostante le avversità è possibile superare le difficoltà e guardare al futuro con fiducia. Il Cielo è un inno alla speranza e alla forza interiore che può aiutare a superare anche i momenti più bui. La canzone è un invito a non arrendersi di fronte alle avversità.